Presentati questa mattina alla fine dei lavori di difesa del litorale a sud della foce del fiume Metauro a Fano. Un intervento dal costo di 4 milioni di euro che andrà così a mettere in sicurezza circa un chilometro di costa. Questa operazione risolverà i problemi che la zona aveva da tempo, compreso il tratto di ferrovia esposto continuamente alle mareggiate. Dobbiamo ringraziare la regione Marche che ha finanziato parzialmente questa attività, RFI che ha contribuito con 2 milioni di euro circa alla realizzazione di queste scogliere, ma anche chi ha eseguito i lavori, la ditta, la slimar, il provveditorato opere pubblica che ha fatto il progetto, ha fatto la direzione dei lavori, il comune di Fano che comunque ha seguito sempre il progetto, ma anche gli altri enti che ci hanno permesso di poter lavorare quest'estate senza soluzione di continuità praticamente, in quanto a parte la sosta in agosto abbiamo sempre lavorato. E poi dobbiamo ringraziare davvero tanto tutti gli organi, la regione Marche, l'ARPAM, la Capitaneria di Porto che hanno consentito che questo sforzo potesse essere effettuato nei tempi che abbiamo stabilito. E siamo molto contenti anche perché rispetto anche a alcune polemiche che sono arrivate attraverso il vostro canale di un residente, possiamo dire oggi che tutto quello che veniva annunciato non si è verificato, anzi possiamo dire oggi che già in questo momento e già soli alcuni mesi dalla realizzazione del scogliere, già la spiaggia di Metauriglia si è ricostituita con la sabbia. Alla presenza dei protagonisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo tratto, a prendere poi la parola è stato il sindaco Seri che ha sottolineato la soddisfazione e l'importanza di questi lavori che porteranno alla città due benefici, il primo la sicurezza dall'erosione della costa, mentre il secondo un'occasione di sviluppo turistico per Fano. Un primo intervento dunque di un progetto più ampio, infatti il secondo lotto di scogliere andrà a congiungersi fino a Torrette. Qui nella zona dalla foccia del fiume Metauro verso il sud le scoglie erano molto vicine alla riva, di fatto impedivano o quasi la fruibilità delle spiagge. Di conseguenza è stato fatto ormai da diversi anni un progetto complessivo di spostamento, appunto si chiama salpamento, di queste scogliere a riva ed allontanarle e metterle in linea con quelle di Torrette, complessivamente il progetto prevedeva circa 8 milioni di investimento, i primi quattro sono stati messi in opera, due con fondi della regione Marche, due con fondi delle ferrovie dello Stato e oggi ne vediamo appunto la fine di questo primo stralcio che è venuto anche molto bene. Quello che io annuncio oggi è il finanziamento da parte del mio assessorato della regione Marche di altri 4 milioni per completare questo intervento ed arrivare fino all'allineamento con le scogliere di Torrette. Questo primo stralcio ha messo in sicurezza, a parte la foccia del Metauro, qui il camping dove siamo posizionati e la ferrovia, però non ha messo in sicurezza le concessioni balneari. Ci sono tre o quattro concessioni balneari immediatamente a sud che sono rimaste, diciamo così, come erano organizzate prima con le scogliere vicino alla ferrovia, quindi una spiaggia poco funzionale. Questo stralcio che invece andremo di nuovo a finanziare per altri 4 milioni consentirà anche a queste zone che hanno delle concessioni balneari di poter fruire di nuove scogliere e di queste spiagge, indubbiamente più funzionali in prospettiva.